L'intervento di lipoaddominoplastica è l'intervento che mira a migliorare e a rimodellare l'abdomo nell'uomo e nella donna. Questo intervento si diviene interventi che vengono fatti simultaneamente. Oggi è possibile quindi contemporaneamente fare una liposcultura per rimuovere quelli che sono gli accumuli adiposi e associarlo a messe in tensione della pelle e quindi fare un vero e proprio lifting della parete addominale. Questo intervento viene eseguito ovviamente in anestesia generale, in clinica e prevede un ricovero solitamente di O2-9. Questo intervento serve a ridonare un addome piatto, rimodellare sia la parte adiposa sia la parete cutanea di O2-9. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!